Musica Si parte carissimi utenti oltre mille atleti a partecipare all'evento della gara podistica di San Marco Evangelista evento ben gestito dalla Running Team un grande evento che ha visto la partecipazione di oltre mille atleti provenienti da tutta la regione campagna Molte le società quotate in questa gara, dalla Difata Runners Caserta alla Podistica Marcianise alla Opest Podistica San Giorgio del Sagno, alla Road Runners Maddaloni, all'Atletica Vissenova all'Atletica Capua, alla Tellana Runners Caserta, alla Marathon Club Stabia Ed ecco il gruppo, Valeria Adamo cerca appunto la fuga, dietro di lui il numero 36 Pietro Adamo Poi c'è anche Antonello Sateriale dell'Opes Podistica San Giorgio del Sagno Poi c'è Di Rauso, vedete tutti in gruppo, Ferrara Bovede, Rosa, Di Maio, Langella per poter riuscire a, sono tutti velocisti a conseguire e a effettuare un'iniziativa singolare Ricordiamo che il clima potrebbe essere incisivo in questa gara Il numero 37, Antonello, scusi un attimo, scusate, il numero 37 Adamo Valerio è in prima posizione Ed ecco nelle immagini il numero 36 Pietro Adamo che cerca di raggiungere Valerio Adamo Valerio Adamo della Tifata Runners Caserta Mentre appunto il numero 36 Pietro Adamo della Tifata Runners Caserta Ancora Valerio Adamo cerca la fuga da 10 metri da Elgebli e Farina ma non gli danno esito, alla fine praticamente lo raggiungono ecco il gruppo, la massa che cerca di velocizzare i tempi e non far scappare Valerio Adamo C'è la curva, ecco vedete siamo in piena campagna, c'è un po' di ossigeno ma in realtà fa un forte caldo Ed ecco che appunto sia Elgebli che Farina raggiungono Valerio Adamo e si forma quasi un terzetto un terzetto che è guidato da Valerio Adamo, Antonio Farina della Tifata Runners Caserta e da Elgebli che guidano il comando della gara ma la massa sta dietro e osserva con attenzione per non farsi scappare il terzetto molto attento, in questo caso Antonello Sateriale in quinta posizione che conserva molto bene la sua posizione poi dietro ancora c'è Di Maio, Langella, De Rosa, Bove tutti atleti che hanno giustamente la possibilità tecnica e agonistica di poter riuscire a conseguire e a seguire il terzetto ecco vedete la massa di atleti che corre velocemente qui sulle strade di San Marchio Evangelista in provincia di Caserta una gara che è stata molto attesa soprattutto anche dal pubblico oltre mille atleti che hanno partecipato a questa gara abbiamo appunto in questo momento la massa di atleti un fiume di atleti che continua a seguire con attenzione il numero 185 Farina Antonio Farina della Tifata Runners Caserta alla sua destra Elgebli della Bodistica Marcianise poi dietro Valerio Adamo che è stato raggiunto e superato però questo terzetto resta in testa nel senso che ha dato anche una distanza al quarto atleta ossia Pietro Adamo della Tifata Runners Caserta dietro di lui c'è appunto Antonello Sateriale vediamo la dinamica di questa gara poi la vedremo sotto un'altra prospettiva sotto un'altra dinamica mediatica ancora il terzetto che continua a seguire a ritmo veloce e costante ed ecco che si passa si attraversa scusate la piazza di San Marco Evangelista il terzetto guidato da Valerio Adamo Antonio Farina e Elgebli ecco appunto la Polizia Municipale che in realtà ha gestito molto bene l'ordine della gara e il traffico siamo nel pieno centro storico di San Marco Evangelista ricordiamo in provincia di Caserta una gara ben gestita organizzata dalla Running Team in testa praticamente ci sono tre atleti Valerio Adamo della Tifata Runners Caserta Antonio Farina della Tifata Runners Caserta Elgebli della Podistica Marcianise il gruppo guida il gruppo appunto il terzetto guida questa gara nel pieno centro storico come si può vedere dalle immagini ancora in azione tra poco vedremo altre immagini saremo dietro il terzetto quindi cercheremo di poter vedere praticamente cosa accadrà dietro il terzetto ed ecco c'è il numero 36 Pietro Adamo Pietro Adamo nelle immagini che cerca di mantenere costante il ritmo c'è il numero 102 Antonello Satoriale della Opes Vodissi San Giorgio del Sagno che continua a percorrere le strade in modo costante dietro di lui generoso Letizia della Podistica Marcianise poi di nuovo in avanti Pietro Adamo ed ecco che qui ci potrebbe essere un'evoluzione tra i tre atleti sono sempre delle posizioni di privilegio anche la quarta posizione la quinta posizione la sesta posizione ed ecco che comunque il terzetto guidato da in pratica Pietro Adamo Satoriale e Generoso Letizia viene seguito da altri atleti che stanno dietro siamo all'interno della corsa adesso siamo all'interno delle campagne vediamo che cosa succede Pietro Adamo ed ecco attenzione ci potrebbe essere il sorparso Generoso Letizia supera Antonello Satoriale e si porta in quarta in quinta posizione scusate in quinta posizione adesso c'è la curva ed ecco Generoso Letizia che accelera il passo vede il cronometro cerca di potersi portare in avanti c'è la fuga di Generoso Letizia verso Pietro Adamo Pietro Adamo rallenta a quanto pare la sua prestazione il caldo influisce molto il clima determina giustamente una situazione variabile soggettiva con Generoso Letizia ecco che Antonello Satoriale cerca di recuperare perché in questo momento è sesto un'altra prospettiva mediatica c'è sempre Generoso Letizia che cerca di superare Pietro Adamo Pantonello Satoriale poi c'è appunto Dirauso Ferrara Bove De Rosa e poi abbiamo appunto De Rosa eccolo le immagini il numero 244 seguono altri atleti abbiamo questo trio Di Maio Langella Moacuia e poi dietro di loro ci sono praticamente tutti gli altri atleti Ferrara ricordiamo dell'atletica Vissnova Dirauso ricordiamo dell'atletica Capua poi abbiamo Moacuia dell'Ana Runners ed ecco il in pratica Generoso Letizia supera Pietro Adamo lo abbiamo visto nelle immagini in questo momento e quindi Generoso Letizia diventa quarto atleta in questa gara quindi dietro c'è appunto davanti c'è invece il terzetto guidato da Valerio Adamo Farina e Gebli ecco Satoriale in quinta posizione ha superato in pratica Pietro Adamo per cui colui il quale ha perso effettivamente energia è stato Pietro Adamo che prima era quarto ad essere diventato sesto mentre conserva molto bene la sua posizione di classifica Antonello Sateriale della Opes Bodissi San Giorgio del Sagno che resta quindi in classifica un atleta che in genere nelle gare riesce sempre a mantenere bene molto la quinta posizione è un privilegiato su queste posizioni adesso andiamo in avanti diciamo che adesso abbiamo Valerio Adamo Farina e Gebli è il terzetto che sta in avanti e qui dobbiamo verificare come si muove se c'è un'iniziativa singolare ma effettivamente non conviene effettuare nessuna iniziativa personale perché il clima influisce molto quindi bisogna aumentare il ritmo di corsa però di conseguenza il clima può incidere sul fisico e rallentare la prestazione abbiamo una curva vediamo cosa succede nulla di particolare il terzetto resta lo stesso qui si percorrono ancora le strade di San Marche Vancellista c'è ancora un'ulteriore curva c'è sempre in effetti c'è Farina davanti al Gebli secondo Valerio Farina in terza posizione ma in pratica beh poi c'è appunto un interscambio vedete adesso il Gebli diventa primo stanno più o meno sulla stessa posizione sia il Gebli che Farina Adamo sta dietro però in realtà il terzetto prosegue sullo stesso ritmo siamo in questo caso attraversando un po' di campagna per poi rientrare appunto nella cittadina di San Marche Evangelista tutta circollantata dal verde ricordiamo che partecipa all'evento anche il sindaco di San Marche Evangelista quindi un esempio per tutti i sindaci d'Italia anzi per tutti gli organi amministrativi assessori consiglieri comunali quindi un esempio davvero alla grande lui è un è un membro della running team quindi è un amante della corsa delle gare potistiche pertanto e di conseguenza abbiamo avuto qui a San Marche Evangelista migli atleti ma diciamo nella concretezza l'evento è stato gestito dalla running team ed ecco che a quanto pare vedete ed ecco che c'è appunto attenzione c'è però sempre dietro il terzetto c'è il numero 34 generoso Letizia Sateriale lo potrebbe agganciare ma a quanto pare c'è stato un po' di distacco dietro di lui c'è il numero 36 Pietradamo e poi c'è appunto il numero 846 Bove segue il numero 965 Ferrara Sateriale continua a velocizzare ancora in azione generoso Letizia Antonello Sateriale ce la impiega tutta impiega tutte le proprie energie siamo su un viale molto lungo e molto largo ma il sole batte come si può vedere dalle immagini ed ecco il terzetto guidato da Valeria Adamo Farina e Gebli dietro di loro in realtà il distacco non è molto notevole posso dire rispetto ad altre gare il distacco diciamo non è molto notevole altre volte abbiamo assistito al vuoto invece qui la gara è molto viva è molto viva gli atleti sono ben allenati e sono bene in forma quindi la distanza tra il gruppo di massa e il terzetto non è notevole appunto quindi alla fine la distanza tra Valeria Adamo Farina e Gebli rispetto a Sateriale e Generoso Letizia è di poca distanza quindi ce la potrebbero pure fare però stiamo adesso davanti alla corsa vediamo la dinamica degli ultimi chilometri come finisce passiamo un incrocio un incrocio stradale dove c'è la macchina della Polizia Municipale il terzetto continua a velocizzare i ritmi in azione di gioco in azione di gioco in questo caso sia il Gebli Farina che Valeria Adamo che continuano a percorrere le strade di San Marco evangelisti e il evangelista una 10 chilometri che ha visto protagonista oltre 1000 atleti ricordiamo che hanno partecipato comunque altre società non indicate precedentemente tra cui la Running Teleseterme la Podistica Cava Piccola Costa Malfi Atletica Caivano la Marathon Maddaloni di Santo la Podistica Valle Caudina Poi abbiamo anche la New Atletica Fragola inoltre abbiamo altre società quella che ha incrementato anche il numero di atleti che è la Ram Lab una società molto giovane che in pratica è riuscita a incrementare di notevole il numero di atleti poi abbiamo la Opes Poligolfo l'Atletica Cerra Amici del Podismo di Maddaloni ed ecco stiamo attraversando in pratica il centro di San Marco Evangelista tra gli applausi il terzetto ricordiamo con Valeria Damo Farina Elgebli e sta guidando la corsa questo terzetto ecco i complimenti da parte del pubblico ospertivo siamo di nuovo nel centro di San Marco Evangelista mancano praticamente meno di 5 km alla fine della gara podistica con un successo dell'evento ben organizzato dalla running team ed ecco si passa di nuovo in piazza con gli applausi da parte del pubblico da parte del pubblico ancora il terzetto continua a lanciarsi in avanti cercando di aumentare la distanza rispetto a Sateriale e Generoso Ledizia i quali giustamente tentano di poter agganciare il terzetto si prosegue qui siamo nel pieno centro storico di San Marco Evangelista ed ecco appunto si continua a rendere dinamica la gara con il terzetto che sta in avanti però possiamo osservare un dato cioè quello di da un punto di vista giornalistico che in realtà nessun effetto ha un'azione personale nessuno esplica una fuga in avanti considerando giustamente anche il gran caldo questo poi sentiremo gli atleti alla fine della gara i commenti le interviste dove appunto gli atleti vedremo cosa diranno rispetto sia al percorso che all'AFA che in effetti probabilmente secondo me ha inciso su questa gara ci sono stati diversi punti di ristoro che sono stati inseriti all'interno anche del centro storico anche fuori dal centro abitato che hanno consentito agli atleti di poter subito prendere le bottiglie d'acqua siamo nel pieno centro abitato di San Marchio Evangelista il terzetto guidato da Valeria Adamo Farina Elgebli Antonio Farina la tifata runners Caserta attualmente ha due podisti in nella in prima posizione in testa alla gara qui si può definire una posizione di privilegio e poi equilibrata c'è un interscambio di posizioni tra i tre atleti ecco ripercorriamo di nuovo la strada delle pannocchie e qui ci dovrebbe essere probabilmente una fuga perché qui c'è abbastanza ombra c'è farina ma a quando pare il ritmo della gara e anche il ritmo che i tre podisti hanno attribuito all'andamento è lo stesso identico non c'è nessuna mossa di velocità anche perché ha le loro spalle a quanto pare la distanza sia aumentata rispetto a Pietradamo che è quarti in classifica della gara e ad Antonello Sateriale ed ecco appunto la macchina del comune di San Marco Evangelista pronta in qualsiasi momento il terzetto tra poco giustamente ci lanceremo in un'altra prospettiva mediatica quindi vedremo la gara da un altro luogo da un'altra posizione ecco c'è una curva in questo momento di nuovo l'iniziativa ed ecco che appunto c'è sempre però da notare che Farina è da tempo che praticamente vuole effettuare la fuga ma non ci riesce cioè da quella sensazione infatti è in prima posizione ma Elgebli lo tiene praticamente puntato Valeria Adamo segue con attenzione senza sprecare energie ed ecco a questo punto tra poco noteremo un'altra posizione da un altro punto della cittadina di San Marchio Vancellista un'altra prospettiva mediatica si continua con il terzetto che continua a viaggiare senza problemi perché alle loro spalle in questo momento non c'è nessun atleta però come abbiamo detto già l'anteprima la distanza non è molto notevole l'abbiamo visto già dall'inizio in altre occasioni abbiamo notato che dopo tre chilometri la distanza era già di qualche chilometro rispetto agli avversari adesso invece qui con molta cautela viene gestita la gara da un terzetto che effettivamente va a ritmo costante ed ecco che si continua a percorrere le strade ed ecco che siamo carissimi utenti a pochi a pochi minuti dal traguardo il terzetto continua a camminare a pari passo senza nessun problema non c'è fuga non c'è nessuna fuga non c'è stata nessuna fuga ed ecco che siamo al traguardo vediamo cosa succede non c'è stata nessuna fuga siamo a circa 800 metri dovrebbero arrivare giustamente questi sono invece gli atleti che in pratica sono gli ultimi e quindi notiamo Carfora Grauso sono gli ultimi atleti della coda ed ecco appunto giungere la macchina a pripista e dopo questa macchina ci dovrebbe essere appunto l'arrivo degli atleti dovrebbe tagliare il traguardo uno dei tre atleti come abbiamo detto vediamo chi è primo in questo momento allora è primo in pratica ecco in questo momento sta arrivando l'atleta dovrebbe arrivare il primo del terzetto vediamo se il terzetto allora il 37 Valeria Adamo si è dato alla fuga quindi ha sganciato Elgebli e Farina quindi Farina è stato distaccato di 20 metri quindi Valeria Adamo taglia il traguardo alza le mani Valeria Adamo grande Valeria Adamo grande Valeria Adamo taglia il tricolore ecco il tricolore ben gestita quindi l'organizzazione taglia il tricolore Valeria Adamo della tifata Rannes Caserta vince questa gara segue ecco nelle immagini c'è appunto questa competizione tra Antonio Farina ma no non c'è competizione Antonio Farina taglia il traguardo secondo in classifica della tifata Rannes Caserta poi c'è Elgebli della podistica Marcianise a pochi minuti appunto c'è Generoso Letizia della Generoso Letizia della podistica Marcianise ecco Sateriale della podistica San Giorgio del Sagno quinta posizione per lui poi abbiamo Bove della Rodranes Maddaloni questo è fuori gara poi abbiamo appunto il 965 Ferrara dell'Atletica Vista Nuova dovrebbe arrivare Pietro Adamo eccolo Pietro Adamo Pietro Adamo della tifata Rannes Caserta dovrebbe tagliare il traguardo di Rauso per lui la nonna posizione dell'Atletica Capua quindi ottava posizione per Radamo che taglia il traguardo di Rauso dell'Atletica Capua anche lui in nonna posizione dobbiamo attendere il decimo classificato quindi di Rauso ha tagliato il traguardo vediamo un attimo ed ecco appunto Pascarella Pascarella della Podistica Caserta c'è una sfida tra Moacuai dell'Atletica Atellana Runners e Langella della Marathon Club Stabia poi abbiamo successivamente al tredicesima posizione abbiamo appunto Garofalo è arrivato anche dell'Ise della Tifata Runners Caserta quindi Carofalo della Podistica Marcianise quindi tutta casertana a quanto pare le prime posizioni a cessione appunto di Sateriale Podistica della Rallab Poi abbiamo Varriale Nappo Poi abbiamo Iossa quindi Varriale della Pomigliana Marathon Nappo della New Atletico Farbro Iossa della Podistica Valle Caudina della Rocca della Podistica Cava Piccola Costa D'Amalfi Poi abbiamo appunto Sant'Agata dell'Atletica D'Urgenda Gelino della Rifata Runners Caserta D'Amico della Podistica Cava Piccola Costa D'Amalfi Bosco della Podistica San Giorgio Dessanio Aufiero venticinquesimo della Opest Silva Casal Nuovo Volla Poi abbiamo Osirite al ventisesimo posto dell'Atletica D'Urgenda Palmieri della Podigi Mavellino Poi è arrivato Di Martino Cassandro Maringolo Stellato Viola Di Maio Vinci Maienza Cozzolino della Poemigliano Marathon è arrivato adesso Maienza Maienza della Divata Runners Caserta Martino Cozzolino Giuliano della Podistica Casoria Cipullo della Podistica Marcianise Bravo Poi abbiamo appunto il Simpatico della Micidi del Podismo di Maddaloni Ferri della Ranic Teles Terme Passariello Pomigliano Marathon Ed ecco ancora il numero 181 che taglia il traguardo Cantiello Acciarino De Rosa della running team San Marco Evangelista De Rosa Ed ecco la prima donna classificata Moacuia della Tellana Runners Poi Lasco Ciccone Poi abbiamo anche Vassallo della Podistica Cava Piccola Costa da Amalfi Poi Celiento di Santo Izzo Migliore Ecco Migliore Ruggiero Esposito di Crescenzo Santo Enrichiello Diana Romano Mozzillo Si Continuano a tagliare il traguardo Abbiamo appunto affinito degli amici del podismo di Maddaloni Poi altri concorrenti Graziano Boccardi Abbiamo visto Patricelli della Libertà Statletica Cerra Il 104 Affinito Amici del podismo di Maddaloni Abbiamo visto Barbarulo della Rodranes Maddaloni Romano della Rocca Tomao Palmentieri Cervo Ciotti Ceglial Edizia Esposito Grandizia Martucci Abbiamo Poi abbiamo la seconda donna Abbiamo visto la prima donna La seconda donna Praticamente Che è la seconda classificata La numero 869 Ossia Di Blasio Annamaria Della Roadrunners Maddaloni Continuano a tagliare il traguardo Grande successo dell'evento Per la Running Team Si continua a tagliare il traguardo Ancora gli atleti vedete sono stati molto corretti in questo caso Tanti Diciamo oltre 1000 atleti è davvero un numero quantitativo molto sostanziale da un punto di vista dello sport il running il running team ha ben organizzato e gestito l'evento come dicevo quindi attendiamo la terza donna che ha effettuato la terza posizione la terza in classifica per le donne di nuovo di nuovo vedete tanti atleti che tagliano il traguardo sono arrivati molti atleti da Anna Donofre come ho già letto prima di Blasio Berteni Severino Rausci speculatore ed ecco appunto la terza donna Lucia Volio della Napoli Nord Marathon alla sua terza